Se vi servono crediti passate da fifacoin.com e con il codice MEANZ tutto maiuscolo avrete subito il 5% di sconto link in descrizione Salve a tutti ragazzi sono sempre Meanz e benvenuti in questo nuovo video sul mio canale Siamo tornati qui con FIFA 18 precisamente FIFA Ultimate Team perché signori si è conclusa la settimana di squad battle Signori e vi voglio far vedere i premi questi sono i premi che ho ricevuto classificandomi a fine settimana in fuoriclasse 2 raga È stata una settimana abbastanza impegnativa classificarsi a fuoriclasse 2 richiede abbastanza impegno e arrivare a fuoriclasse 1 bisogna riuscire a vincerne parecchie Questo è vero però già fuoriclasse 2 come potete vedere sono dei premi abbastanza interessanti quindi ragazzi ci andiamo ad aprire questi pacchetti Che ho ricevuto più qualche altro pacchetto che ho qua e là e andiamo a spacchettare anche 1000 FIFA Points non penso troveremo chissà chi Però ragazzi mi interessa cercare di farmi qualche credito per migliorare la mia rosa e per cercare di fare anche qualche sfida creazione rosa Comunque andiamo subito nel negozio e questi sono i miei pacchetti ragazzi abbiamo due pacchetti mega che dubito troveremo qualcosa di decente E in più ho questi altri pacchetti partiamo con questo qua che deve essere abbastanza marzo stavolta io me li guardo tutti ragazzi Non c'è niente ovviamente non si illumina non è neanche raro benissimo Iguain ragazzi ho trovato Iguain Questo sembra il babbo di Iguain Ok andiamo avanti con delle ali il pacchetto premium oro maxi Niente non si illumina non si illumina almeno è raro Vediamo DC francesi Oh mancherà raga è buono per la mia causa è buono per la mia causa per la mia premier sicuramente Ci sta ci sta va bene va bene sono contento di trovare giocatori che servono a me per la mia causa come detto per la premier Per la premier league ecco Ok altro pacchetto oreo premium maxi raga Dai Non si illumina non si illumina però almeno è raro Brasiliano cc del napoli Allan 80 Pensavo peggio pensavo peggio Oh poi abbiamo anche i rugani non è male questo pacchetto raga per farsi una serie a non è per niente male Ok raga adesso abbiamo due pacchetti mega Dubito riusciremo a trovare qualcuno di interessante poi ci andiamo a spacchettare altri Oh attenzione raga Attenzione Ok non è want to watch non è neanche if Spagnolo Ad Del Chelsea Pedrito 84 Pedrito Ma andiamo E questo è utile per la mia causa raga Sono contento per questo Sono contento per questo Dai va bene va bene Va bene Pedrito Chi c'è anche Albiol e Leighton Baines Che anche lui è molto utile per la mia causa Molto bene Per fortuna raga Che Pedro è utile Anche in un possibile cambio di modulo Qua non c'è niente Dai un pacchetto mega non c'è nulla Messicano A T Hernandez ce l'ho già Peccato Peccato Hernandez ce l'ho già Magari gli altri chi sono Parolo Musa 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 raga Attenzione Perché magari non è buggato come Come l'anno scorso Ma Musa potrebbe essere interessante Ok raga andiamo ad aprirci Un pochino di Di questi pack Con i FIFA Points Non sono molti Giusto per Fare Un pack opening decente Oddio decente è un parolone Però un po' più lungo Un po' più corposo Diciamo Esterno sinistro Un Kudu Questo potrebbe essere buono Per una Premier League Iniziale Questo esterno sinistro Però Sempre Premier E Attenzione raga Attenzione Calmi Brasiliano A T Del Benfica Jonas 83 Jonas Dai Neanche walk out Dai Dai Speravo qualcosa di meglio Bruno 84 Così Ho già Ho già già Ho foe Ho già Ho foe Non ce l'ho già Però ho già Scusate Scusate ma Attenzione raga Si è illuminato Svizzero Sommer Ma vaffamocca Dai Sommer 83 Ma perché fare Tutta sta scena Per Sommer E Giorginio Poi questo Chi è Damianvitz Ma fa Si qualcuno di decente Però Si spera sempre Di trovare Qualcosa di più Raga Qualcosa di più Dai Almeno un walk out Niente Peccato Messicano CC Dei Los Angeles Galaxy Dos Santos Ancora gioca Sto Dos Santos Ultimi due pacchetti Raga Ultimi due pacchetti Vediamo se si illumina No 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 Niente Niente Marsello Ma chi sei Ma chi sei Esattamente Che tristezza Che tristezza Però non la voglio concludere Qua raga Ve lo posso assicurare Prendo altri 4-5 pacchetti Perché ho voglia di spacchettare Oggi Ultimo Per il momento Poi ne vado a prendere Degli altri Niente Ma dai Non raro Onana Onana Ok ragazzi Ci siamo Con un po' di Di ritardo Sono 15 minuti Ci ho messo Per prendere Questi FIFA Points Si parte subito Alla grande Con un bel niente Dentro questo pacchetto Un bel niente Muslera Ancora Ancora esiste Muslera Io veramente Non ho parole Avanti con il prossimo Io Perché mi dispiace Che non sono Mai uno Di quelli Che ha fortuna Attenzione Ti prego Scuro No Non c'è niente Francese CDC Dell'Everton Schneiderlin E questo serve Per la causa E questo serve Per la causa Ragazzi Mi sono risparmiato I crediti Però poteva essere Anche Baccaio Co Poteva essere Qualcun altro Schneiderlin Vediamo qua Niente Niente Troppo fortunato Prima Scusa C'hai ragione Troppo fortunato Trovare Schneiderlin Danese DC Del Chelsea Christensen Christensen Che vale qualcosa Ragazzi Perché secondo me Vale sui 5000 Christensen Qualcosa di più Qualcosa di meno Scusate Però Anche lui Mi fa comodo Sinceramente Lui lo inviamo Al club Mentre questi qui Lo teniamo Perché potrebbe essere Ancora buono Per quanto riguarda La squadra La squadra di Manet Questo Vediamo qua Niente Qua non c'è nulla Però prima abbiamo trovato Christensen Questo non è neanche Raro Lennon Ma Lennon È quello che è stato All'ospedale Psichiatrico Raga Tre pacchetti Dubito Troveremo qualcosa Di Di decente In questi tre pacchetti Non si illumina Non si illumina Non si illumina Almeno era raro Almeno era raro Raga Stark Stark E Barreca Ultimi due pacchettini Almeno uno Che ti Almeno uno Illumina Almeno uno Illumina Non so più cosa Niente Non si illumina Comunque In ogni caso Non raro Non raro Comunque è bastarda La ye Perché lo sa Chi paga Guardate sta roba Ma cos'è sta roba Raga Io vendo tutto Ultimo ragazzi Ultimo Ti prego Cioè questo vale Lo stesso discorso Dabur Dabur In un pacchetto pagato 76 Non ho parole Non ho veramente parole Per fortuna Che ci sono I I contratti Niente ragazzi Mi sono fatto un po' di credit Mi sono fatto qualche giocatore buono Per la mia Per la mia squadra Per il momento Ci salutiamo qui Spero che questo video vi sia piaciuto Fatemi sapere sotto nei commenti Se voi avete trovato qualcosa di decente Noi ci vediamo in un prossimo video Un saluto alla mezza prossima Ciao a tutti ragazzi